C'è chi parla di caso politico riferendosi all'esclusione di Montesilvano dall'elenco dei comuni beneficiari del Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione che la Regione eroga alle amministrazioni richiedenti. Il sindaco Ottavio De Martinis ridimensiona però la questione parlando di problemi legati ai ritardi nell'istruttoria delle pratiche per il Fondo Affitti che hanno fatto slittare la presentazione della domanda oltre la scadenza fissata. In Abruzzo sono 170 i comuni rimasti fuori dall'accesso ai 3,6 milioni di euro disponibili per il Fondo Affitti, proprio come Montesilvano dove cerca 500 famiglie richiedenti ora rischiano di restare a bocca asciutta, tanto da indurre il sindaco De Martinis a presentare ricorso al TAR. L'auspicio però è quello di una risoluzione non giudiziaria del caso. A me interessa poco il lato politico, interessa invece quello che interessa la cittadinanza interessa il territorio e c'è stata una mancanza al nostro avviso da parte dell'entre regione nella misura in cui nel mese di dicembre è stato emanato un avviso per la ripartizione dei fondi destinati ai titolari di affitti con dei redditi bassi. Come ogni anno avremmo dovuto istruire le pratiche pervenute a seguito di un ulteriore avviso a livello locale, ma i tempi erano davvero stringenti, tant'è che come in precedenza, come gli anni precedenti, abbiamo chiesto alla regione una proroga che ci avrebbe consentito di istruire le tantissime domande che in realtà poi sono arrivate. Abbiamo 500 richieste di contributo e era impossibile portare avanti appunto l'istruttore di tutte le pratiche. Ma benché noi avessimo chiesto una proroga, la regione ha pensato bene invece di ripartire i fondi senza tenere conto di questa richiesta e noi siamo rimasti come Montesilvano, come tantissimi comuni della regione, siamo rimasti fuori da questa ripartizione e quando parlo di noi parlo dei cittadini. Ho manifestato il mio dissenso alla regione chiedendo una rivisitazione di quelli che sono i termini che erano perentori ma che in qualche modo dalla nostra richiesta sarebbero dovuti essere insomma presi in considerazione in maniera diversa. Cosa farete se la regione non vi assegnerà appunto questi fondi? Diciamo che è già partito un iter perché in giunta abbiamo approvato una delibera con un incarico dato a un legale che ha già predisposto un ricorso alla pratica. Speriamo che la regione possa portare avanti delle azioni e possa in qualche modo interrompere questo percorso perché è sempre antipatico e portare avanti controverse traenti.